Allora signori, vi do ufficialmente il benvenuto a questo Zotta Training Park edizione 2022 Signore e signori, the big boy 10 minuti di flusso semi-libero 5, da un centro, 3 Non ti fermare, non ti fermare Dai, 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 dai Ultimo lavoro Ispira e ci siamo Credete in voi ma credetemi le persone che avete bisogno Grazie 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 Grazie